Piazza Pepe senza via vai di macchine o veicoli parcheggiati ma con le serrande dei negozi abbassati per la protesta dei commercianti della zona. Gli imprenditori chiedono la riapertura alle auto e contestano l'operato dell'amministrazione comunale. Non ci sono ampi parcheggi limitrofi per permettere un comodo accesso all'isola pedonale, hanno spiegato i manifestanti. Non c'è nessun progetto di valorizzazione dell'area, nessun investimento per attrarre i cittadini. Lo stop alle auto deciso dall'amministrazione hanno aggiunto invece i commercianti ha prodotto solo danni alle attività. Le cifre dell'ultimo mese secondo gli autori della protesta parlano di un calo del 50 per cento degli incassi e del 20 per cento di posti di lavoro a rischio. In questa zona storica della città il commercio dà da mangiare a circa 200 persone tra impiegati e ditte individuali. La protesta ha interessato anche le strade limitrofe a piazza prefettura come via Marconi, via Orefici, via Ferrari, via Ziccardi e via Cannavina. L'amministrazione comunale per il momento è latitante a dialogare e a confrontarsi sul caso ma dai commercianti arriva anche la proposta a trasformare Piazza Pepe in un'isola pedonale i mesi estivi a partire dalle 18.